Fai felice la tua casa con internet ultraveloce di Fastweb che fa volare tutta la famiglia con la velocità che vuoi e senza limiti anche contemporaneamente. E la grande tv di Sky con gli show esclusivi e le serie tv di cui tutti parlano al prezzo bloccato di 29 euro al mese fino a settembre 2017. Non perdere tempo, scegli internet ultraveloce, chiamate illimitate e la grande tv di Sky. Prima ti abboni e più risparmi, oltre 400 euro. Chiamaci 067762 o visita gli spazi Sky. Grazie a tutti.